Limitare il costo del servizio fornito dai giganti del web sulle prenotazioni alberghiere e aumentare la cosiddetta web tax per aiutare le imprese del territorio porta alla firma di Fratelli d'Italia la proposta di legge per mettere un tetto alla percentuale che i siti internazionali che aiutano a prenotare alberghi e strutture turistiche del territorio possano domandare agli imprenditori che rischiano di rimanere stritolati Noi con questa legge poniamo un tetto, un tetto alla posizione dominante un tetto del 12% massimo come compenso per appunto ridurre il potere di questi oligopolisti che sfruttano la loro posizione dominante nei confronti del territorio italiano In alcuni casi la percentuale è ben superiore e difficilmente sostenibile dagli imprenditori veneti del settore che vanno aiutati in tutti i modi sostiene Fratelli d'Italia con la sua proposta Nel contempo chiediamo di aumentare la web tax dal 3 al 6% per destinarne un sesto un sesto di questa web tax al settore turistico alberghiero come una tassa di scopo per promuovere il territorio italiano e promuovere anche un portale Italia.it che deve essere di servizio al territorio alternativo a questi giganti del web L'invito è quello di unirsi, di proporre le strutture in modo autonomo con un portale di casa nostra che si ponga in concorrenza Per dare espressione a chi nel territorio, a Padova, Verona, Vicenza dovesse organizzarsi strutture alberghieri e associazioni alberghieri per proporre un portale del territorio Quanto ai tempi i promotori della legge si augurano che possa essere approvata all'interno della prossima manovra finanziaria altrimenti verrà ripresentata sotto forma di emendamento nella manovra di fine anno obiettivo che diventi operativa dal 1 gennaio 2020 e che ci sia una ricaduta economica positiva sul territorio veneto Grazie a tutti